Le conquiste, le sfide e i passi ancora da compiere perché la parità fra uomo e donna diventi effettiva sono stati al centro della conferenza L'uguaglianza di genere nel XXI secolo, il punto di vista dell'ILO, ospitata nell'aula di Palazzo Lascaris, organizzata dalla Consulta delle Lette, dalla Consulta Femminile e dall'International Trading Center ITC di Torino dell'ILO International Labor Organization. Ospite di eccezione del convegno Jane Hodges, direttrice dell'Ufficio per l'uguaglianza di genere dell'ILO di Ginevra. L'ILO lavora molto con le istituzioni regionali perché hanno un ruolo importante sul territorio, per il messaggio politico, l'attività legislativa, le misure pratiche e oggetto di discussione e confronto all'interno di questi organismi poi applicate a favore dei cittadini locali. Se vuoi vedere la democrazia in azione devi vedere uomini e donne dibattere su questioni che riguardano la qualità della vita in un mondo sempre più globalizzato. Ecco perché in istituzioni come questo Consiglio regionale è necessario affrontare temi quali l'uguaglianza di genere se si intende lavorare bene al servizio della cittadinanza del territorio.